Eccellenza is on fire, tra ufficialità e indiscrezioni entra sempre più nel vivo quello che sarà il corso della prossima stagione. Il Martina, nonostante pur parlè dei giorni scorsi, ha deciso di accordare nuovamente fiducia a Massimo Pizzulli. Il lavoro del tecnico Biancazzurro è stato apprezzato dai vertici societari, malgrado il mancato raggiungimento della Serie D. Sarà una squadra però profondamente rinnovata, più di categoria e meno di nomi. Cavalli di ritorno a Castellaneta e Ostuni, al timone bianco-rosso tornerà Lino D'Alena. In giallo-blu riecco Angelo Serio con il DS Paolo Marzio confermato nel suo ruolo. Alla ricerca di un nuovo allenatore il Sava, ufficiale già da qualche giorno infatti, la separazione con Gioacchino Marangio. Volgendo lo sguardo verso il nord Puglia, il città di Mola ripartirà Davito Castelletti. Attese novità infine a Barletta e Corato. Difficile che Farina rimanga in bianco-rosso, a tal proposito circola il nome di Danilo Rufini. Più percorribile l'ipotesi conferma in nero-verde per Scaringella.